Come votare su poteralpopolo.net Aprite la pagina poteralpopolo.net, inserite le vostre credenziali, username e password ed entrate nella piattaforma. Una volta dentro, troverete al centro, soprattutto, le due votazioni in corso. Cliccate in basso a sinistra su Vota adesso. Dopodiché vi troverete in una pagina dove è possibile indicare sia l'approvazione per una delle due proposte, sia la disapprovazione di una delle due. Basta cliccare sulle freccette per fare scendere o salire la proposta che si vuole. Una volta fatto questo, per visualizzare l'anteprima del vostro voto, cliccate in basso a sinistra Anteprima e controllate. Dopodiché potete sia modificare, sia votare direttamente. Una volta votato, tornerai alla pagina con la votazione degli statuti. Potrei essere sicuro di aver votato cliccando su uno degli statuti votazione e vedendo in alto la scritta a destra Hai votato. Anche tu adesso vota lo statuto, dal 6 al 9 ottobre.